trotte al forno le trotte sono già state pulite dal pescivendolo io le ho lavate e adesso le asciugo bene sia all'esterno che all'interno e inizio inserendo sale un trito di aglio e prezzemolo un rametto di rosmarino e di timo una foglia di alloro delle fette di limone salvia olio d'oliva pepe nero e sale vino bianco secco e copro tutto quanto con la pellicola trasparente perché le farò marinare per quattro ore trascorso il tempo di marinatura metto in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti coperte con della carta stagnola poi altri 10 minuti senza copertura per farle durare bene le trotte sono pronte adesso provo a impiattare l'unica cosa che mi sento di dirvi è di stare attenti se ci vanno anche mangiate dai bambini di controllare tutte le rische una blanda che si vanno stessa a fare l'unica cosa che si vanno acquistare tutte le rische che si vanno ha si vanno a troppo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.